sembra di stare sulla luna è benedetto io l'ho preso in parola mi sono fatta accompagnare un po in giro per l'isola soltanto pietra lavica e tutta vulcanica questa è tutta pietra lavica stiamo arrivando alle piscine si si nel cratere naturale piscina naturale io possibile anche fare il bagno e come lo fanno tutti è bellissimo c'è il tunnel di sotto lo fanno anche in appena e sbucano a mare dell'altra parte c'è una galleria sommersa molto larghissimo breve spero sì non è pericoloso e coraggio e si fa subito lei l'ha fatto benedetto benedetto là c'è un faro dalle nostre spalle si è presidiato o no non c'è più il guardiano il guardiano è andato in pensione ora funziona tutta automata punta beppe tuccio si chiama punta beppe tuccio che bel nome perché si chiama così perché il primo che faceva il servizio si chiamava peppe tuccio eccola qua questa è la piscina naturale la prima e il sifone parte da qua è proprio lì di fronte bisogna scendere due metri e c'è il tunnel che porta male se n'è un'altra o c'è solo questa solo no ce n'è un'altra ma è più 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 piccola più piccola invece questa è molto più facile quindi questa piscina alimentata dall'acqua del mare che arriva dal sifone queste invece queste pozzanghere sono il frutto delle mareggiate delle onde le onde che arrivano si poi l'acqua evapora e resta il sale fa il sale si e noi lo raccogliamo per metterlo nei capperini senta benedetto ma lei sua moglie anna quando eravate giovani dove la portava per convincerla a sposarla guarda io sono stati in germania per circa cinque anni e noi ce le con anna ci frequentavamo da quando eravamo piccoli appena sono arrivati lì sono arrivato lì mi è arrivato la prima lettera di anna e allora è stato un fulgine forte e poi tornato qua sì 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 e c'è un posticino a linosa dove portava sua moglie quando eravate fidanzate no questa è la usanza non si usava così mio soggiro era sempre all'antichità ora le cose sono cambiate ma prima questo non si poteva fare assolutamente secondo me se suo suocero gliel'avesse permesso lei sua moglie l'avrebbe portata qui per chiedere di sposarla certamente alle piscine naturali sì sì è vero è il posto più romantico del mondo è vero 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 è bellissimo